Diritti a Todi, il Festival Cinematografico Internazionale sui Diritti Umani, ha ospitato la presentazione del docufilm Todocambia, promosso dal Comitato Diritti Umani del Consiglio Regionale. Il cortometraggio della durata di circa 13 minuti è stato realizzato dalla regista Alessandro Avataneo. Protagonisti, i volti di ogni età, studenti, artigiani, commercianti, pensionati, incontrati nelle scuole, sulle strade, nei negozi, ciascuno dei quali esprime la propria visione dei diritti umani, con la colonna sonora della musica dell'orchestra e coro Pequenas Wellas di Torino.